bomba ragazzi sono qui per presentarvi un altro personaggio di cotto e frullato z lo avete visto nella prima stagione era un mio amico mio fidato compagno ma adesso patrizio che cosa hai fatto patrizio patrizio insieme a paolo e maurizio è uno dei fondatori di cotto e frullato li affianca nella produzione della serie fin dalle primissime puntate ha dimostrato la sua fedeltà verso maurizio in più occasioni arrivando a difenderlo contro nino 666 quando ha assunto il ruolo di bodyguard armato purtroppo la sua scarsa mira non gli ha permesso di essere molto efficace ma non si è mai tirato indietro di fronte al pericolo dopo l'esplosione della casa sembrava essere deceduto come gli altri membri della crew ma è riapparso al fianco di nino 666 adesso indossa una vistosa benda nera su un occhio ma non sappiamo cosa gli sia successo pare abbia giurato fedeltà alla persona che ha ucciso tutti i suoi amici e allo stesso tempo sembra nutrire un intenso odio verso maurizio quale sarà il motivo di questo suo cambiamento